Questa è una corsa aperta! All'inizio della curva conduce Maurice Tucam davanti a Storia Romana, Sebi Fly, Don Giustino, La Salli, Volimpi Fai, Milgaus, Gold Ray, Noss Aspect e Injoite San. Poco prima dell'ingresso in vantaggio, prosegue in vantaggio Maurice Tucam davanti a Storia Romana, Sebi Fly e Don Giustino. I cavalli entrano in vantaggio, con Maurice Tucam in vantaggio, davanti a Storia Romana, Sebi Fly, Don Giustino, Milgaus, Gold Ray, Noss Aspect, passa Sebi Fly davanti a Don Giustino, Storia Romana, Noss Aspect, Maurice Tucam, Milgaus e La Salli e passa Don Giustino davanti a Sebi Fly, Noss Aspect, Storia Romana e La Salli. E' facile Don Giustino davanti a Noss Aspect, Sebi Fly e Storia Romana. E' facile Don Giustino, La Salli e confessionitti a Storia Romana. Del Giustino, La Salli e別, non mi liquidsichino. Grazie. Grazie.